Buonasera a tutti, grazie a tutti per partecipare in questa bella serata, con una parte della scuola di Scuola Davino di Marco Bocella, che facciamo allora, prendo la posizione e poi iniziamo la scuola, che va bene, lo dico io, lo dico io, ma io lo dico io, allora, ladies and gentlemen, signori e signori, ecco a me la scuola latino, con il nostro Marco Bocella, che ci propongono il disco tango. Buonasera a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie! 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 Di lei Locella! Marco Locella! Marco Locella! Grazie! Ci siamo? Vado? Ok! Si parto! Sobriamo! Guadenas! Abriamo! Agriamo! Agriamo! Su bruta ischipata la campana se cities si madried se neccope La bambingina e guettati que commigli , ma , qua immer l30 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.